Aaaaaaah Scusatemi, scusatemi tanto Purtroppo qua abbiamo un problema nel nostro mondo di Minecraft C'è un casino Allora, praticamente c'è questo percorso Ed è bloccato purtroppo Però lì vedo un altro percorso ancora più oscuro e strano Il che mi fa pensare che io debba andare lì E sì, sta nevicando intorno a me Perché chiaramente c'è inverno, no? C'è tutta la neve, tutto bello Ok, dobbiamo andare avanti perché chiaramente Qui devo capire che caspita di posto è Probabilmente qui si prende la chiave La chiave che poi ci servirà per aprire quel percorso È divertente però, devo dire Poi è molto bello, tutto colorato È brutto questo, non c'è niente, dai Proprio fino all'ultima cesta devo arrivare E questa è effettivamente la chiave Però qua c'è anche un martello runico E tantissime di queste cose Morey Ottimo, perfetto Adesso ritorniamo indietro da questa parte Perché c'è effettivamente il buco per ritornare E adesso vediamo effettivamente se si sblocca il passaggio segreto oppure no Però in parte vedo anche una cesta Quindi questo mi sospettisce Vediamo Eh no Però forse questa cesta si è aperta la cesta E qua c'era la master key Eh, si è sbloccato Oh mio Dio, che figata Perfetto Adesso direi di andare Vediamo qua che cosa c'è Allora ci sono gli amici di Boxiboo Il che mi fa un pochino schifo Fai via Fai via No No, no, fai male Fai molto male Ho preso questo Ora mi mangio le mie mele d'oro Altrimenti è impossibile sconfiggere questi tizi Ah Però questo qua mi ha dato una chiave credo Posso sbloccare quella porta schifosa Ah 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 Ok Perfetto Sono vivo Ciao Allora pure tu devi esserci qua Brutto schifoso Devo prendere il mio regalo di Natale Vai immediatamente via Altrimenti per i ride in fronte ai miei occhi Ma basta Ma perché non muore Ok Credo che sia per finire effettivamente Perché vedo in parte sulla vita Eh 18, 17 Perfetto Perché Sto finendo Oh Finalmente è deceduto Per fortuna Ok Adesso direi di vedere quali sono i regali di Natale Oh Che belli Quanti bellissimi regali di Natale E voi ragazzi che cosa avrete per Natale Scrivetevelo giù nei commenti Se vi va chiaramente Poi vabbè Anche se avete dei calzini ci sta Cioè È sempre meglio di niente Anche se io li butto Poi dopo Cioè non so Mi danno le cose per i piedi Non li voglio Vabbè Iscrivetevi al canale È stato molto divertente Fare questi video simpatici Grazie Ciao Ciao